Ci sono anche due abruzzesi tra le sette persone arrestate dalla Digos di Torino nell'ambito dell'operazione denominata Scripta Manent contro la FAI, la Federazione Anarchica Informale. Ad eseguire le ordinanze di custodia è stata la Digos di Torino, coordinata dal Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, su disposizione della Procura della Repubblica del Capologo Piemontese. All'operazione hanno dato il loro contributo operativo, le Digos di Pescara, Roma e Viterbo. In tutto gli indagati sono 15. Agli arrestati viene contestato il reato di associazione con finalità di terrorismo e l'esplosione di tre ordigni, uno presso il quartiere Crocetta di Torino il 5 marzo 2007 e due ordigni presso la caserma allievi Carabinieri di Fossano il 2 giugno del 2006. I due abruzzesi agli arresti sono Danilo Cremonese, 40 anni, e la sua convivente Valentina Spezia. Su entrambi residenti a Montesilvano, ma nati a Pescara, ha investigato la Digos della Questura di Pescara diretta dalla dottoressa Lelia Di Giulio, che ha agito su delega della Procura della Repubblica di Torino e sotto il coordinamento del Servizio Centrale Antiterrorismo. I due danni avrebbero collaborato con la Federazione Anarchica Informale. L'operazione della Digos di Torino trae origine dal procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Torino a seguito del ferimento dell'ingegnere Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'ansaldo nucleare, per mano di appartenenti al cosiddetto Nucleo Olga, espressione del cartello eversivo FAI, Federazione Anarchica Informale. L'indagine ha permesso di ricostruire la struttura associativa e l'evoluzione internazionale della FAI. Grazie a tutti.